Gentili telespettatori, buona giornata. Il PD sottoaccusa a Firenze. Eh sì, la campagna elettorale pagata con i soldi dei fiorentini di chi paga le tasse. Quindi pagata con i soldi di tutti, elettori di destra e di sinistra. Ma attenzione, anche se non è stata chiesta la volontà dei cittadini di poter pagare con le loro tasse la campagna elettorale del PD, lo hanno fatto e basta. Il lancio che non è ufficiale della campagna elettorale di Dario Nardella, sindaco di Firenze per le europee, che cosa ha fatto questo Nardella? Ha deciso di fare le cose in grande. Ha deciso di spendere i suoi soldi per fare campagna elettorale. Eh no, non si, non si. Con i soldi dei cittadini. C'è il comune lì con i soldi, che faccio? Ci metto i soldi miei. Eh ma scusate. Guardate che intanto in tutto il mondo succede questo. che i politici per essere rieletti utilizzano i soldi pubblici per fare campagna elettorale. È una cosa disonesta che succede in tutto il mondo, gran parte del mondo. Ma torniamo a Dario Nardella. Quello per ricordarci era quello, vi ricordate quella pagliacciata dove lui fa una video intervista proprio con alle spalle l'ecovandalo che imbratta il muro. lui si gira e comincia a correre contro l'ecovandalo e lo bracca. Tutta una pagliacciata fatta per mettersi in mostra. Tutta una cosa studiata con questi per farsi pubblicità a vicenda. Gli ecovandali si fanno pubblicità televisiva. Nardella fa la sua corsa per salvare il muro della città. Ecco, insomma, una pagliacciata che solo a vederla era vergognosa. Ti faceva vergognare veramente. Comunque, Dario Nardella ha deciso di fare le cose in grande, invitando in città alcuni sindaci stranieri, tra cui la sindaca di Parigi. Solo che a pagare vitto e alloggio a questi illustri ospiti non sarà il circolo fiorentino del PD, ma i residenti della città con le loro tasse. Ci sono 32.000 euro previsti per finanziare la due giorni cena di gala compresa. Poi c'è anche il fatto che nella giornata di venerdì gli stessi sindaci saranno protagonisti alla Festa dell'Unità, con l'intervento anche di Elena Dettaelli. Bene, con il faccia a faccia con Maurizio Molinari, che farà le interviste a Palazzo Medici Riccardi. Tavole rotonde, che ci saranno il giorno seguente. Una sorta di festa del PD dove questo Nardella vuol far vedere di essere un sindaco europeo dentro una sorta di rete di sindaci europei. E così le denunce dei leghisti, di Susanna Ceccardi, della Cappelletti, che dicono Nardella ha dato inizio alla propria campagna e eventi, tutti chiaramente spostati a sinistra. E se è normale che questo accada alla Festa dell'Unità, lo è un po' meno che ad esempio la prima tavola rotonda del convegno ufficiale si intitoli Le città democratiche europee di fronte alla sfida dei populisti e dei sovranisti. Ecco. E gli eventi che vengono affidati a una società il cui presidente è ex membro dello staff di Nardella. Hai capito? Umma umma, capisci a me. Bene. Dice che il sindaco utilizza per fare la sua campagna elettorale il ruolo istituzionale soprattutto impegnando soldi pubblici per eventi di questo tipo. Anche un'altra leghista, Cappelletti, dice che la cosa peggiore è che ancora una volta Nardella usa la città di Firenze come Bancomat, salvo poi dire di non avere fondi per il trasporto pubblico e per le zone disagiate della provincia. Hai capito, eh? Quello che correva tutto aerodinamico, che correva tutto con una roba, mamma mia. C'è anche l'ironia di Renzi. Dice così. avessi fatto io una cosa del genere, la procura di Firenze mi avrebbe arrestato per violazione del finanziamento pubblico. Eh sì, caro Renzi, tu hai lasciato il PD e quindi sei diventato una sorta di nemico pubblico alla stregua di Salvini, di Meloni. Quindi quando lui dice, particolarmente ironico, avessi fatto io una cosa del genere e la procura di Firenze mi avrebbe arrestato, è vero, sarebbe stato indagato. Mentre il sindaco Nardella, tranquillo. Vi ricordate la Lamorgese che aveva fermato delle navi ONG per 11 giorni? Perché ovviamente in quel periodo c'erano le elezioni regionali, allora far sbarcare clandestini non portava certo un vantaggio elettorale alla sinistra? E la Lamorgese fermò una nave per 11 giorni. Nessuno disse mai nulla, mentre Salvini per aver fermato una nave per 5-6 giorni è a processo. Capite, no? Quello che dice Renzi? L'avessi fatto io mi avrebbero arrestato. Mentre lo fa lui e nessun giornale dice niente. Io questa notizia l'ho trovata solo su Libero quotidiano. Il responsabile degli enti locali di Italia Viva, Francesco Casini, che è anche sindaco di Bagno di Ripoli, dice spero Nardella si scusi e torni sui suoi passi. Sono convinto che la metro città di Firenze debba avere un ruolo e un'apertura all'internazionalità, ma se a poche ore dall'evento viene fuori che gli stessi ospiti partecipano alla festa dell'unità, allora è lecito pensare che tutto sia organizzato per il PD e che Nardella lo stia utilizzando per accreditarsi con la corrente del PD che lo ha sonoramente sconfitto alle primarie. Sono vergogne italiche queste, ma come vi dicevo tanti politici in giro per il mondo utilizzano proprio questo tipo di cose, utilizzare i soldi pubblici per essere rieletti, camuffandoli da eventi per la cittadinanza, soldi per uso politico generale, invece lui lo fa per, utilizza i soldi dei fiorentini per tentare l'elezione a europarlamentare, però lui furbamente lo fa prima di avere annunciato la sua candidatura all'europea e così facendolo prima, ma cosa dite? Io non ho detto mica niente ancora, come fate a dire che è una campagna elettorale se io non ho ancora ufficialmente detto che mi candido? Hai capito? Furbo il Dario, corri corri aerodinamico, corri caro la mia bella faccia allegra del Nardella, molti si credono più furbi degli altri, arrivederci a tutti.